come ha fatto? come fa? spegni il momento qui dai come non lo fa più? spegni, 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 vediamo, vediamo e nooo questo comincia un po' a gne 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 così, dai, dopo dopo dopo, balla, balla dai, dai, dai dai, 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 dai come fai farti? tutti insieme, oh? Pausto, come fai farti? come devi? niente, dai, sono niente via, bagazzatta, via bagazzatta, via, scapposa lì ma finì che mi gibolla il doblò, canto il cappello